Crutch, bind, set. Che notte. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Che notte. Che notte. Che nottata. Che nottata che ci hanno regalato le ragazze dell'Ital Rugby. Le azzure. La nazionale italiana femminile. Grazie ragazze. Prima partita del mondiale. Prima vittoria. 22 a 10. E una notte veramente dove l'emozione per chi ha deciso di restare sveglio o magari l'ha rivista questa mattina. Però insomma è stato bello restare sveglio questa notte. Perché poi sono quelle cose che nella notte nella tua intimità le vivi ancora di più. Perché l'emozione è proprio tua. La senti dentro. Tutti gli altri dormono. E dentro di te tu dici non sai cosa vi state perdendo. E sì. Cari amici del rugby. Se questa notte non avete visto la partita. Non l'avete vissuta in diretta. Vi siete persi qualcosa. Se non l'avete rivista. Vi siete persi qualcosa. E allora eventualmente andatela a rivedere. Perché meritano. 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 Allora. 22 a 10. Fatemi. Questo video non vuole essere un video di analisi. Vuole essere un video di esultanza. Un video per condividere assieme a voi amici del canale la gioia per questa bella bellissima partita di rugby che ci hanno regalato. perché è stato veramente un regalo quello che ci hanno fatto le ragazze. E allora fatemi dire una cosa. Le ragazze per l'ennesima volta ci hanno sorpreso. Per l'ennesima volta. Sì perché va detto. A inizio partita l'allenatore degli Stati Uniti diceva sono avanti di noi nel ranking. Partiamo come underdog. però bleffava un po'. Bleffava un po'. Perché se poi andavi a vedere per esempio le quote. Gli Stati Uniti erano abbastanza nettamente favoriti sulla carta. Però poi le partite vanno giocate. E se andavi a vedere anche un po' le preview. Venivano date gli Stati Uniti come favoriti. Certo. L'Italia non veniva data lontana. Non veniva data lontana. però gli Stati Uniti venivano dati come favoriti. E allora le ragazze ci hanno di nuovo di nuovo stupito. Sono riuscite a regalarci un'altra gioia. così come quella che ci hanno regalato poche settimane fa in quel di Biella. No? Insomma siamo abituati a vedere la nazionale femminile stupirci. Le ragazze di Gian Domenico trovare da qualche parte le risorse per fare l'impensabile. Allora io l'avevo detto tante volte anche durante il Sei Nazioni. Più volte hanno tirato fuori partite che sembravano perse. E io ho detto se c'è una caratteristica che ha la nazionale italiana femminile è la resilienza. Assolutamente. l'abbiamo detto no? La differenza tra resistenza e resilienza quale? La resistenza beh lo sappiamo è quello di resistere, resistere, resistere mentre si viene colpiti fino allo spezzarsi. Spezzarsi il più tardi possibile però spezzarsi. Invece la resilienza è quella caratteristica che poi gli psicologi mi smentiscano se ho sbagliato la definizione. Però diciamo è la caratteristica che ti permette di rimodellarti. Ossia di sì, subire i colpi, ovviamente subire i colpi, però invece di spezzarsi, piegarsi ed essere capaci di ritrovare poi, di rimodellarsi appunto, di ritrovare poi l'assetto, di trovare la risposta. Non è solamente un restare rigidi e resistere come un muro, ma è quello di essere più flessibili e poi ritrovare la risposta. E allora è quello che fanno sempre, sempre, sempre le ragazze di Gian Domenico. E anche ieri l'hanno fatto, anche ieri l'hanno fatto perché senza andare a pensare ancora al prima, all'infortunio della Furlane, eccetera. Però le difficoltà da superare sono state tante, sono state tantissime. A partire da un infortunio arrivato 24 ore prima dell'inizio della partita, la Duca, che era schierata titolare, adesso vedremo se sarà possibile recuperarla nel corso del torneo, sarebbe importante. Però insomma, ieri la sostituisce una Tunesi che fa una partita veramente clamorosa, una ragazza che non doveva essere nemmeno nelle 15, alla fine della partita era sicuramente tra le candidate per il player of the match. E' stato dato a pieno merito a Giada Franco, ho sentito dei commenti, secondo me, permettetemi di dire, un po' superficiali perché forse tra il sonno non hanno visto bene la partita, però Giada Franco ieri ha fatto una partita strepitosa, strepitosa veramente, sia in difesa che in attacco nei carry. C'è un momento poi di magia pura del gioco dove fa un fissa e passa, liberando verso l'esterno, se non sbaglio la muzzo, facendo una finta di darla dentro, poi invece la dà fuori. Insomma, veramente una gran, gran giocatrice di rugby. Ed è vero, ieri si sarebbe potuto premiare forse anche qualcun altro, però la Franco era sicuramente tra le candidate per il player of the match. Io, se volete che vi dica chi mi è piaciuto di più, ho detto Turani, per oggi Adafranco era sicuramente tra le candidate. Ma poi ho detto Turani adesso non a caso perché la prima linea ha fatto un lavoro clamoroso, clamoroso, clamoroso. Io ho iniziato a pensare che questa partita sarebbe girata dalla parte dell'Italia nel momento in cui l'Italia, dopo aver difeso praticamente per tutto il primo tempo, nella propria metà campo, a un certo punto inizia a sistemare la mischia. Inizia a sistemare la mischia, la pilone sinistro statunitense, la Hope Rogers, veramente una bestia. Allora, c'è stato un momento in cui mi sono detto quando farò il lunedì il mio 15 della settimana, come dire, orizzontale, tra i giocatori e le giocatrici di rugby migliori del fine settimana, sicuramente ci devo mettere la Hope Rogers perché sta distruggendo la povera Lucia Guy. E invece un paio di mischie e trovano l'assetto per rispondere le italiane. La Roger stava letteralmente spazzando via la prima linea italiana, poi due discorsini con l'arbitro, stai attento che entrano in diagonale spingendo da sotto a sopra, occhio a un paio di cose, si sono compattate tra di loro, hanno trovato magari un assetto, hanno trovato il tempo di spinta e, ops, come per miracolo, una mischia che era completamente dominata diventa stabile e in alcuni frangenti addirittura dominante. Veramente bravissime, bravissime. Fatemelo dire al lavoro della prima linea italiana, delle prime cinque. Quando si parla di mischia non si sa mai se il merito è delle piloni, delle prime tre, delle prime cinque o di tutte otto, però sicuramente le prime cinque nel discorso della spinta hanno un'importanza fondamentale. Quindi, ecco, questo è un altro punto anche magari a favore della Tunesi, che non solo nel gioco aperto, ma probabilmente ha messo la sua fisicità anche nella spinta in mischia chiusa. Comunque, insomma, prime linee che fanno un lavoro clamoroso. Ma veramente tutte. Allora, per la prima volta, per la prima volta, mi sono trovato in disaccordo con un post, seppur bellissimo, di Squidge Rugby. Perché Squidge Rugby ieri, subito dopo la partita, anche lui la grande passione del rugby è rimasto sveglio per vedersi appunto questo bellissimo Italia-Stati Uniti, subito dalla partita scrive Io credo che Madia e Rigoni, se avessero giocato con gli Stati Uniti, sarebbero stati gli Stati Uniti a vincere con il punto di bonus. E io per la prima volta mi trovo in disaccordo. Mi trovo in disaccordo. Perché sì, è vero, tra le giocatrici che hanno sicuramente fatto girare la macchina dell'Italia, ci sono state Madia e Rigoni. Fantastica la prestazione. Madia, dai, un'azione su tutte. Quel passaggio interno, lo look, geniale, geniale, che apre il campo per la meta di Magatti. Veramente, veramente geniale. Subito dopo l'entrata di Barattina. Veramente geniale. E Rigoni. Rigoni è una gioia vederla giocare a rugby. È bellissimo. È bellissimo vedere la Rigoni giocare a rugby. Prima di tutto per la sua leggerezza, per il vedere come si diverte, la sua, tra virgolette, ignoranza sportiva. Ossia, è una ragazza che fa quello che gli detta l'istinto e 9 su 10 l'istinto gli detta la cosa giusta. È troppo bello vederla giocare. È troppo bello vederla giocare. Proprio è una rigbista dentro. È una giocatrice che inventa gioco. Uno di quei giocatori slash giocatrici, perché è una cosa all around, indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmine, che ha il gioco dentro. Ha il gioco dentro e te lo passa e te lo fa respirare. È veramente bravissimo. È veramente bellissimo. Però, insomma, abbiamo detto, loro due sicuramente. Però, se poi vai a vedere la formazione, ti rendi conto dell'importanza chiave di tutte. Di tutte. Abbiamo detto, le prime linee, la Gai che ti gira quella situazione contro la Oproges. Incredibile, incredibile. Solo per questo, forse, si potrebbe dare tranquillamente, senza fare un torto a nessuno, il titolo di player of the match a Lucia Gai. Ovviamente, anche la Turani. La Bettoni, che in rimessa laterale, non dico perfetta, ma quasi, e tra l'altro rimessa laterale l'Italia sta partita con gli Stati Uniti, l'ha vinta in rimessa laterale, sia nella propria che l'ha vinta anche in rimessa laterale, sia nella propria che hanno fatto vedere i sorciverdi nelle letture della rimessa laterale avversaria, gliele sporcano, gliele rubano, li forzano la storta. Veramente hanno reso un incubo agli Stati Uniti la rimessa laterale. Però la Bettoni poi, ad esempio, resta in campo, si prende un colpo durissimo alle costole, la vedi che quasi non riesce a respirare, resta in campo, deve lanciare subito una rimessa, la lancia bene, poi resta in campo, fa fatica e dopo un po' vedi che piano piano recupera, deve lanciarne un'altra. La resilienza, la resilienza, la resilienza si piegano ma non si rompono, anzi non solo non si rompono, ma riescono a ritrovare l'assetto, lo ritrovano dopo ogni infortunio, lo ritrovano dopo ogni botta presa, lo ritrovano in mischia, lo ritrovano dovunque nella partita, lo ritrovano dopo essere andate sotto 5-0, lo ritrovano dopo che al minuto 1, anzi 0 è qualcosa, deve uscire Ilaria Righetti, giocatrice fondamentale se ce n'è una per questa nazionale. Però anche lì trovano la maniera di sopperire a tutte le difficoltà. Entra la Sgorbini e lo fa benissimo. Le Avanti hanno fatto una partita incredibile. È per quello che non sono d'accordo nel dire che se Madia e Rigoni avessero giocato dall'altra parte avrebbero vinto gli Stati Uniti. No, perché le rimesse laterali gliele leggevano le Avanti. No, perché i carry gli facevano gli Avanti. No, perché quella situazione in mischia chiusa l'hanno risolta le Avanti. Insomma, il lavoro ieri, anche difensivo, nei carry, negli offload, il coraggio del pacchetto degli Avanti è stato assolutamente clamoroso. Però questo è il rugby. Gli Avanti che ti aprono la strada e poi i tre quarti guidati. Sì, si è parlato di Magdia, Rigoni e Sillari, però anche va detto prima di tutto il timing che è riuscito a dare Sofia Stefan e poi quando è entrata negli ultimi 20 minuti anche la Barattin per poi aprire il gioco per degli Avanti, per dei tre quarti che hanno veramente fatto le magie. Hanno veramente fatto le magie e si sono divertite in campo. Si sono divertite tanto, tanto, tanto e hanno fatto divertire anche noi. La Rigoni l'abbiamo detto, la Madia l'abbiamo detto, Sillari importantissima in difesa. Poi mette una trasformazione allucinante. dall'angolino ogni tanto si dice che nel rugby femminile non ci arrivano col piede bene la Sillari mette una trasformazione dall'angolino, veramente visto che eravamo in Nuova Zelanda, alla Dan Carter, fatemelo dire. E poi l'importanza anche difensiva della Sillari e anche offensiva. Insomma, e poi le ali, le ali, doppietta di Aura Muzzo, meta di Maria Magatti e meta di Ostoni Minuzzi, il triangolo allargato. Quindi quattro mete del bonus, tutte portate dal triangolo allargato. Quindi le Avanti che aprono il gioco è come se lo aprono e prima resistono perché mamma mia se sono state messe alla prova le nostre Avanti. Mamma mia se sono state messe alla prova le nostre Avanti. E hanno resistito, hanno resistito. E anche quando si sono piegate poi hanno saputo ritrovare l'assetto. Che bello, che bello, che bella partita. Grazie ragazzi, veramente, grazie ragazze. Una masterclass di rugby, una lezione di rugby. E poi la cosa che mi è piaciuta anche alla fine è sentire già da Franco che, ripeto, assolutamente tra le protagoniste indiscusse di questa partita premiata con il play of the match, dire sì, dai, avremmo potuto forse giocare anche un po' meglio. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta questa umiltà, diciamo, e questo perfezionismo, no? E questo perfezionismo della nostra Giada. E, beh, insomma, se riescono ad alzare il livello, come magari è anche normale che possa accadere durante la competizione, perché più stanno insieme, più sì. Speriamo di riuscire a recuperare gli infortuni. Aspettiamo di sapere, sembravano due infortuni brutti, però aspettiamo di sapere di Arrighetti, ovviamente, e di Arrighetti e di Duca. Vediamo se riusciamo a recuperarle strada facendo, però questo gruppo può migliorare partita dopo partita, può migliorare strada facendo. All'inizio qualche meccanismo, proprio nell'esecuzione, l'ha detto anche la Franco, non è stato proprio perfetto nell'accuracy, no? E, beh, insomma, se si migliorano queste cose e si continua a tenere una difesa del genere, una difesa del genere, bene, guardate che non sarà facile per nessuna contro l'Italia. Non sarà facile nemmeno per il Canada che andiamo a incontrare la settimana prossima. E metti mai, metti mai! Il Canada ha vinto abbastanza agevolmente la partita col Giappone. Però, insomma, già se si arriva a seconde, si può trovare un quarto di finale giocabile. Le ragazze hanno detto l'obiettivo di questa nazionale è la semifinale. Obiettivo altissimo, obiettivo altissimo. Cioè, stiamo parlando di entrare tra le quattro squadre più forti del mondo! Del mondo! Del mondo! Brave ragazze. Bravissime ragazze. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie per averci dedicato, regalato una notte di emozioni. Una notte di emozioni. Non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana per viverne un'altra. Comunque vada. Comunque vada. Perché quello che voi fate vedere in campo, ragazze, merita un grazie a prescindere. Ma non un grazie regalato, come ogni tanto si dice. Sì, comunque a prescindere bravi per gli sforzi che fate. Questo sa va a san dire. Cioè, è proprio chiaro. Non serve nemmeno ripeterlo. No, no, grazie per le emozioni vere che ci fate vedere ad ogni placaggio, ad ogni offload, ad ogni scelta coraggiosa, ad ogni trasformazione dall'angolino, ad ogni mischia vinta quando sembra impensabile, ad ogni rimessa laterale. Grazie, 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 grazie. Fischio finale. Un grande, grandissimo bacio. A presto. A domani con il prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto.